Ciao, oggi impariamo a trasformare delle foto o delle figure in stickers, cioè le facciamo diventare come se fossero delle figurine da appiccicare. Ti faccio vedere come le ho usate. Ecco, le ho usate per creare il bigliettino a natalizio. Vedi che sembrano proprio degli adesivi incollati su un cartoncino, ma ti faccio vedere un altro esempio. Io posso anche utilizzarli come copertina di un lavoro scolastico. Oppure, posso mettere qui foto di miei amici e creare una pagina ricordo di un avvenimento, di una gita, della fine dell'anno, oppure fare un lavoro con le foto della famiglia e regalarla come ricordo. Diciamo che è un modo simpatico per gestire le immagini. Adesso riprodurremo questo biglietto insieme così impari come si fa. È molto semplice. Intanto prendiamo una pagina nuova. La prima cosa che faccio è dare un colore allo sfondo, perché in questo modo si vedrà la trasformazione del contorno molto meglio. Se lasciassimo la pagina bianca non si vedrebbe. Allora, per prima cosa devo andare su elementi e devo cercare gli elementi che mi interessano. Il criterio però, altrimenti il lavoro non viene, è quello di trovare delle foto o delle figure, delle icone che siano senza sfondo. Tu sai bene che se mi trovo una cosa che mi interessa e lo sfondo ce l'ha. Se ho Canva Pro posso utilizzare la funzione rimuovi sfondo, altrimenti tu sai che possiamo andare sul nostro sito Remove Background. Vedi che ad esempio quelle immagini che tu hai visto prima io l'ho trovata e c'era uno sfondo nero. Ho tolto lo sfondo, ho tagliato un pezzo e ho ottenuto quello che mi serviva. Ormai sei un esperto. Bene, allora se vogliamo preparare un biglietto di Natale, la prima cosa quindi da fare è cercare Natale senza sfondo. Non è che ti dà veramente tutto senza sfondo, però insomma alcune cose sì e quindi si fa prima ad attivare la ricerca. Vedi che qui c'è un filtro perché io ho lasciato gli elementi gratuiti di ricerca. Bene, prendiamo questo albero di Natale. Ci vuole un secondo criterio. Allora il primo è soddisfatto perché vedi questo non ha sfondo, ma non tutte le immagini si possono trattare. Io devo prendere quelle che se clicco modifica immagine, ecco vedi che già questa non va bene, mi devono dare la ombre, la possibilità di lavorare sulle ombre, quindi questo non va bene. Allora vado a cercare qualcosa d'altro. Questa è perfetta. Quindi deve comparire in modifica immagine la possibilità di lavorare sulle ombre perché è tutto lì il trucco. Io clicco luminosità, clicco un'altra volta e mi si aprono i filtri. Per prima cosa cambio il colore e lo metto bianco perché l'effetto del contorno dell'adesivo è bianco. Poi tolgo la sfocatura, metto trasparenza accento, vedi che si è creato un contorno, dopodiché lavoro sulle dimensioni. Le dimensioni le stabilisco io come mi piacciono. In questo caso 10 potrebbe andare bene. Clicco applica e poi devo aspettare un attimo, ecco vedi che è cambiato, devo aspettare che luminosità non sia più selezionato. Ecco fatto, vedi che è sparito? Perché cosa succede? Se io mi tolgo prima che succeda questo, può capitare che l'immagine torni come era prima e perda le modifiche. Allora vado avanti. Proviamo a cercare una foto così facciamo tutti gli esempi. Allora per far prima vado a prendere quelle che ho già usate, ad esempio questo albero di Natale. modifica immagine, ombre, luminosità, clicco un'altra volta e faccio lo stesso lavoro di prima. Bianco, sfocatura zero, trasparenza accento e poi stabilisco di quanto voglio il contorno. Applica, aspetto, vedi che è ancora grigino qua, aspetto qualche secondo. Ecco fatto, sono sicura che adesso le modifiche non andranno perse. E poi vado avanti a fare questo lavoro scegliendo gli elementi che più mi interessano. Io ho preso questi due esempi che poi sono, vedi, ho messo qui sia una foto, sia delle icone, sia delle immagini tridimensionali, per farti vedere che questo lavoro dello sticker può essere fatto con qualsiasi figura. L'unico criterio che devo seguire è quello che abbiamo visto prima, cioè io cliccando su modifica immagine devo avere la possibilità di giocare sulle ombre, altrimenti il lavoro non viene. Questo è lo sfondo del mio biglietto. Io però, insomma, mi sembra un po' piatto, mi sembra un po' poco carino. Vedi che, ad esempio, io qui ho inserito uno spruzzo, uno spruzzo di oro. Come ho fatto? Semplice, vado di nuovo su elementi, ti faccio vedere quelli che ho usato. Ecco, cercando Natale senza sfondo ti vengono fuori anche questi. Vedi? Uno potrebbe essere questo. Prendiamo questo qua. Io lo posso anche allargare per dare più luminosità. Poi, ovviamente, ecco, c'entro un pochino, gli devo dire però di andare indietro, indietro a tutto, perché ovviamente i miei sticker devono sembrare appiccicati sopra questo, sopra questo cartoncino. E poi non faccio altro che inserire un testo, scegliere un font che sia un po' carino, un po' natalizio. Ecco, questo potrebbe andare bene. Allargarlo. E poi cambiare il colore. Io ho scelto un verde scuro perché si vede sull'oro e rimaniamo in quelli che sono i colori del Natale classici, no? Cioè il verde scuro, il rosso e l'oro. Quindi hai visto che il lavoro è semplicissimo. Si può applicare a qualsiasi cosa. Io ho utilizzato, ti ho fatto vedere prima, anche il sito perché avevo trovato questa figura che mi piaceva ma che aveva uno sfondo. Ti faccio vedere come ho creato invece lo sfondo di questa pagina, anche qui giocando sulla doppia figura. Io che cosa ho fatto? Allora aggiungiamo una pagina. Avevo messo uno sfondo verde, questo qua. Poi in elementi sono andata a cercare una foresta senza sfondo. Allora vediamo se scrivendo, ecco vedi? Foresta senza sfondo. Al solito applichiamo il nostro filtro così non perdiamo tempo. E scorrendo nella colonna ho trovato, ecco ho trovato questa. L'ho fatto diventare trasparente in modo che rimanesse il disegno, rimanesse un po' il colore verde di sfondo e poi l'ho allargato a tutta la pagina. In questo modo. Dopodiché l'ho messo dietro a tutte le figurine. Ho composto il mio testo e quindi ho creato uno sfondo che fosse più adatto al mio argomento. Quindi come vedi sono trucchetti molto semplici che però ti danno la possibilità di creare effetti diversi su argomenti molto diversi tra loro. Spero che ne farai buon uso. Ti aspetto alla prossima lezione. Per adesso, buon lavoro! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!